Sindaco, nonostante questa giornata di pioggia, l'importante è ricordare. Sì, è doveroso ricordare il 10 febbraio, la giornata delle foibe, tutte quelle persone che per decenni sono state dimenticate e che soltanto recentemente, finalmente, è stato riconosciuto il loro uccidio. Come sempre con le associazioni combattentistiche Dharma, con i rappresentanti delle forze dell'ordine, purtroppo non sono state presenti le scolaresche perché era un messaggio a loro destinato, una giornata a loro destinata anche per consentirli di conoscere la storia. Non sono venute per il maltempo, però stavo dicendo insieme agli intervenuti abbiamo celebrato questa giornata e abbiamo deposto, come sempre, la colonna di alloro per ricordare quanti oggi non ci sono più e sono stati oggetto e bersaglio davvero di un vero e proprio uccidio. C'è un messaggio però che vuole rivolgere ai più giovani e quindi agli studenti? Beh, certo. Quello di conoscere la storia affinché non si possano più ripetere in futuro gli errori che purtroppo ancora oggi ci portano a celebrare le giornate come queste.